Musica Al comunale di Secchiano va in scena i derby di Coppa Italia tra Nova Feta e Petracuta, uno dei derby più antichi e sentiti della Balmarecchia. Gli ospiti arrivano all'appuntamento con una squadra collaudata che ha abbracciato nel mercato estivo e il portiere Lasagni rafforzandosi inoltre in tutti i reparti, pochi acquisti ma mirati. In Nova Feta invece arriva l'appuntamento con una squadra rafforzata in ogni reparto, praticamente nuova, indelicato e semiraro, sono i fiori all'occhiello della campagna acquisti. Gli uomini di Montalti carichi nelle gambe devono ancora assimilare gli schemi del nuovo allenatore entrato ad opera in corsa prendendo il posto di mister Fratta. Tra i pali debutto assoluto per il portiere Palumbo, arrivato dalla Sampierana a sole 48 ore prima. Torromani e Joachim completano i mosaico in entrata. Per il Pietro Acuta sottolineiamo le buone prestazioni di due fabbri, di Evaristi e di Galli, oltre che del giovane Faiti. E' un'arte di partenza, Fregnani è costituito a rinunciare a Politi, per lui problemi nel riscaldamento, sarà sostituito da contadini. Prima del calcio d'inizio un minuto di raccoglimento, come su tutti i campi, per la scomparsa dell'arbitro De Santis e di Lecce, per la prematura scomparsa di una promessa del calcio locale appartenente a Bellari-Giammarina 1956. Veniamo a questo punto alla gara. Sulla destra Evaristi, tra i migliori dei suoi, punta deciso alla porta. La sua serpentina viene stoppata al muro giallobru, che favorisce, inavvertitamente, la conclusione di Fratti, deviata in corner. Dall'altra parte, nuova fetta per Damedeo Valentini. Dall'angolo di Semeraro, il centrale difensivo sbatte violentemente i ginocchi a terra. Lui, dolore, viene avvertito anche in tribune. Nonostante l'intervento medico, Valentini sarà costito ad abbandonare anzitempo il terreno da gioco. Perso il penno difensivo, sul ribaltamento di fronte, Bruma, da posizione di filata, cerca di sorprendere Palumbo. La sfera si accomoda sull'esterno della rete. Altra lita notizia per il rossobure, la prestazione di Galli, proprio numero 7, lascia su posto l'avversario, ma il suo tiro viene respinto di piede con bravura da Palumbo, che poi si complica la vita con una respinta di pugno, che innesca qualche patema di troppo alla propria retroguardia. Lo stesso portiere controlla questa conclusione dalla distanza di Bruma. E quando i gol sembra cosa fatta, l'attaccante ex-cattolica, servito da parte dell'offensivo Fratti, manca di freddezza dinanzi a Palumbo. Il pietro acuto dall'angolo riscalda nuovamente i guantoni a Palumbo, con questo colpo di testa di Galli sventato dall'estremo di casa. E quando Bruma si ritrova il pallone del possibile vantaggio su un finire di tempo, compie semplicemente un clic per ripetere quanto fatto vedere cinque minuti prima. La freddezza non è di casa, e pur centrando la porta, Palumbo risponde alla garella. L'ultimo tentativo è dello stesso Bruma, ma la mira è da rivedere. Squadra riposta solo 0-0 sotto lo sguardo di Milani della sezione di Cesena, che insieme a Corbelli e frizioni di Rimini ha composto la tena arbitrale di questa partita. Nella ripresa il pietro acuta prova a colpire i cofratti, ma l'attaccante non incide. Il traversore di Fabri poco dopo viene sventato così da Palumbo. Il pietro acuta rimane in zona offensiva e Bruma si ritrova il pallone del vantaggio tra i piedi. Ancora una volta Palumbo fa buona guardia sul proprio palo. Si vede il nuovo affetto con questa punizione di Toromani bloccata dalla Sanni. 28. Seguiamo assieme questa azione perché qui si decide il derby della Valmarecchia. Il nuovo affetto parte in contropiede, indelicato porta spasso il pallone, allarga Persemeraro, il quale mette al centro questo pallone che la Sanni non riesce a bloccare. Il pericolo rimane vivo, il nuovo affetto non ne approfitta e Pietracuta conquistando palla reagisce di rimessa, ottenendo spazio al campo e quando Tomasini appena entrato effettua un'innocuo traversone e il centrale difensivo a Poli a trovarsi sulla traiettoria di infilare involontariamente la propria porta, dando così i derby d'andata al Pietracuta. Rivediamo la sfortunata deviazione del centrale difensivo, entrata partita in corsa al posto di Valentini. Il nuovo affetto non ci sta. Da calcio piazzato arrivano le risposte dei padroni di casa. Foschi alza la mira, mentre indelicato vorrebbe il tiro a giro che avviene senza inquadrare il bersaglio. Il finale è di marca ospite. Palumbo è costretto ad uscire su Tomasini, poi da calcio piazzato di Fabi, colpo di testa di Vukai viene bloccato a terra dall'estremo di casa, che si ripete al 94esimo sulla concursione di Golinucci deviata in corner, con la collaborazione di Joachim. Sconfitta di misura per un nuovo affetto che deve ancora assimilare gli schemi di mister Montalti, il quale riceve buone indicazioni da Radici, Joachim, da Toromani e da Palumbo. Da registrare l'asse centrale difensivo e l'attacco con indelicato e mancini all'obbligo di pungere le difese avversarie, ma serve ovviamente pazienza. Il Pietracuta può confermare nel prossimo campionato quanto di buono messo in pratica nelle ultime stagioni. Ha dalla sua una squadra che si conosce da molte annate, non può più nascondersi. Buona fortuna ad ambedue le formazioni.